E' a Gela che quasi a mezzanotte una lancia musa è andata distrutta dalle fiamme, era di proprietà dell'avvocato Anna Comandatore, esponente di Diventerà Bellissima, precedentemente consigliere comunale a Gela. E' da circa due settimane che a Gela si registrano episodi di incendi auto. Siamo a Capo Soprano, un quartiere molto abitato e proprio in via Islanda l'auto è andata in fiamme. I vigili del fuoco dopo aver spento le fiamme e seguito il sopralluogo hanno determinato la natura dolosa dell'incendio, sarebbe stato utilizzato del liquido infiammabile e poi sarebbe stato appiccato il fuoco. Oltre all'auto dell'avvocato anche altre due vetture di due pensionati sono state incendiate, una in piazza Don Bosco alle 18.30 del pomeriggio di ieri, l'altra alle 2.30 di oggi in via Butera. Tre episodi su cui indagano i carabinieri già una settimana fa a subire un gesto simile era stata la consigliera comunale Alessandra Ascia.